Ci sono immagini chiarissime del momento dell'incidente del 30 ottobre a Zinasco, causato da una coppia di malviventi in fuga su un'auto rubata. Il video sta cominciando a circolare attraverso i social network ed è tratto da una telecamera di videosorveglianza. Sono le 12.51 e a Zinasco Vecchio sta arrivando a folle velocità l'Audi rubata a Vigevano con a bordo i malviventi, dietro i carabinieri che avevano intercettato la vettura sospetta a Garlasco. Nel filmato si vede una colonna di auto andare a velocità moderata nel tratto in cui la provinciale si incunia fra le case. Improvvisamente sbuca l'Audi dei ladri che tenta un sorpasso impossibile schiantandosi contro una vettura proveniente in senso opposto. Nelle immagini rallentate e ingrandite possiamo vedere anche la dinamica che ha portato a ferire gravemente una signora di 61 anni che stava passando in bicicletta. La donna cerca di accostare vedendosi arrivare di fronte l'auto dei ladri a grande velocità e riesce quasi a togliersi di mezzo ma all'ultimo viene colpita. Forse se non ci fosse stato il SUV bianco parcheggiato le conseguenze sarebbero state ancora peggiori perché la presenza della vettura ferma non ha permesso ai ladri di allargarsi ulteriormente sulla loro sinistra e in quel caso la donna sarebbe stata travolta in pieno. Subito dopo il botto si vedono i malviventi uscire dall'abitacono e scappare a piedi per la via laterale. È a quel punto che spunta la pattuglia dei carabinieri all'inseguimento. Ricordiamo che uno dei due ladri è stato subito arrestato mentre l'altro è ancora ricercato. Nell'incidente oltre alla signora in bicicletta che è ancora in gravi condizioni a Policlinico San Matteo erano rimasti feriti anche l'arrestato in maniera lieve in guidatore dell'auto con cui i ladri hanno avuto il frontale che aveva riportato gravi traumi e in maniera più lieve i due familiari che viaggiavano insieme a quest'ultimo. Grazie.